Con Pierluigi Bevilacqua eravamo rimasti a Frichigno, ora però c'è I Don't Care che si impone e si impone in una certa maniera, vero? Sì, siamo molto orgogliosi. I Don't Care è un progetto che è nato qualche tempo fa ma che nell'ultima settimana ha avuto un momento glorioso per noi perché ha vinto il Festival di Kuwait, del Kuwait internazionale, Festival internazionale di teatro che si svolge proprio a Kuwait City. Che non è un festival di terzo ordine, insomma poco importante, certo non è neanche tra i primi però ha la sua importanza. No, no, è molto importante nell'ambito, quindi è uno dei festival più ambiti. C'erano diverse nazionalità in concorso, dal Marocco alla Polonia, quindi molto trasversale. E aver vinto il premio più importante, cioè il miglior spettacolo, è stato per noi una scossa incredibile. Ricordiamo che cosa dice questo spettacolo? Questo spettacolo è fondamentalmente dedicato alle nuove generazioni e parla della dipendenza dai social network, non solo dallo strumento smartphone ma proprio da una serie di comportamenti, idee, sentimenti che ormai vivono lì dentro e che sono stati condizionati anche da questa rivoluzione. Dopo questo successo potrà essere divisto da chi magari non l'ha visto in prima battuta ai Don't Care? Sì, certo. Saremo a Roma in un altro festival che si chiama Do It, che raccoglie un po' le nuove drammaturgie e poi, non posso dire Pescaramanzia, ma in un altro festival internazionale appena avremo la conferma te lo farò sapere per primo. E a Foggia invece? A Foggia l'abbiamo fatto qualche tempo fa, qualche mese fa e non è detto che non abbia la possibilità di farsi rivedere magari in una vetrilla ancora più bella come per esempio il Giordano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.